un picchio rapace alla mazzoni guarda un luogo manano allora quando parla del mio ascoli faccia vedere solamente le immagini senza senza essere contrastato da nessuno il pilazzo per la terza ascoli 3 juventus siani non raggiunge il pallone di testa e segna gelo sugli spalti di san siro la palla arriva ancora l'ex milanista che con il pallonetto è il numero uno del mondo ma questa volta c'entra il bersaglio 2 a 1 sul punto della risa quando l'utelettorice estrae dal cilindro un numero quasi magico un numero uno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.